ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube e nel mio piccolo laboratorio oggi vedremo questa strana squadretta della parkside che sarà in vendita giorno 11 marzo del 2021 a 4 euro e 99 io la possiedo da almeno uno o due anni e posso garantirvi che una squadra particolare che ci permette di fare tantissime cose sembra una semplice squadre per segnare 90 e 45 gradi ma in realtà nasconde tantissimi segreti ed è davvero una squadra multiuso all'interno del laboratorio può tornare utilissima ovviamente sia questa nella parkside che tutti gli altri tipi di squadre di questo tipo il suo nome in realtà sarebbe speed square quindi squadra rapida o squadra da carpentiere ma noi lo siamo all'interno del nostro laboratorio quindi vediamo quale sarà il suo funzionamento più che altro all'interno del laboratorio della vista e cosa permette di fare questo tipo di strumento iniziamo prima di iniziare ad utilizzarla però vediamola da vicino la squadra interamente metallo e alluminio quindi fate attenzione non farla cadere perché potrebbe deformarsi soprattutto sulla base da questa parte abbiamo un angolo di 90 gradi con una stampa con dei centimetri da questa parte invece abbiamo un angolo di 45 gradi con una stampa che si riferisce a delle angolazioni questi invece sono dei riferimenti che vedremo fra poco anche qua all'interno c'è un riferimento con dei centimetri e qua all'angolo c'è questa rientranza che si chiama pivot a uno spessore di due millimetri e mezzo la base è 22 mm e lo spazio utile per poter utilizzare la battuta è di 9 mm e mezzo ovviamente se dobbiamo utilizzarla sui materiali sottili che siano poggiati sulla superficie ovviamente avremo questa sporgenza e rimarrà un pochettino sollevata si può utilizzare però non è il massimo superando il centimetro di spessore torna davvero utilissima nel 99 per cento dei casi questa squadra si utilizza per segnare un angolo a 90 gradi per poter realizzare un taglio oppure per verificare la correttezza di un taglio che sia perfettamente a 90 gradi utilizzandola come riscontro in questo modo la facciamo e vediamo che il taglio eseguito sia perfettamente a 90 gradi oppure a 45 per potere segnare un angolo di 90 gradi basterà semplicemente poggiarla in questo modo e tracciare una linea in questo modo avremo una linea che sia a 90 gradi rispetto il nostro riscontro oppure che sia a 45 gradi quindi un semplice utilizzo come squadretta da falegname per poter segnare gli angoli ma ci permette pure di replicare le linee quindi ovviamente avere delle linee parallele ma questa nasconde un piccolo segreto quindi se noi tracciamo una linea da questa parte e abbiamo necessità di ripetere la stessa linea perfettamente parallela a 5 centimetri di distanza potremmo utilizzare questa scala incisa sulla base basterà semplicemente spostarci in questo modo fa coincidere la linea appena tracciata con il 5 e in questo modo avremo una distanza di 5 cm da una linea ad un'altra se dovessimo realizzare per esempio un quadrato basterà semplicemente poggiare la penna o la matita da questa parte ovviamente se ci sono le venature del legno questo altererà un pochettino la linea per forza però in questo modo spingendo avremo i 5 cm ovviamente la venatura mi ha fatto andare un pochettino zigzag ma queste squadre solitamente vengono vendute anche con delle rientranze ogni centimetro ogni cinque millimetri e questo ci permette di avere la matita o la penna perfettamente ferma sia da questa parte che eventualmente anche da questa parte perché l'incisione ed entrambi i lati quindi facendo corrispondere la linea con i 5 cm da questa parte così avremo 5 cm 5 cm da questa parte se invece avessimo necessità di tracciare delle linee con un'angolazione diversa da quella dei 45 gradi basterà a leggere i gradi stampati da questa parte infatti in questo modo corrisponde a zero ma se noi incliniamo in questo modo avremo un'angolazione di 5 gradi leggiamo da questa parte però la linea dobbiamo tracciarla da quest'altra parte e questi saranno 5 gradi rispetto all'angolo di 90 oppure se volessimo tracciarla a 45 gradi basterà posizionarla in questo modo fare corrispondere il 45 dopo di che tracciare è ovviamente in questo modo ci permette di gestire gli angoli come meglio crediamo ovviamente sembra superfluo dirlo ma questo riferimento stampato con i centimetri dalla parte dei 90 gradi serve sia a misurare l'altezza dei pezzi che dobbiamo tagliare che a stabilire delle linee ad una distanza ben definita quindi per esempio sei centimetri un altro utilizzo molto diffuso di questa squadra che però in ambito fisico meno utilizzato è quello nel quale bisogna creare delle tettoie con una pendenza prestabilita e realizzare degli incastri nei quali andare a mettere i paletti di supporto eccetera da questa parte abbiamo dei riferimenti con le angolazioni corrispondenti ai numeri che utilizzeremo ora per dare l'inclinazione solitamente viene utilizzato il numero 6 che corrisponde a 30 gradi e 96 per poter fare questo incastro è necessario posizionare la nostra squadra inclinare fino al raggiungimento del numero 6 come corrispondenza da questa parte parte più interna si riferisce ad un altro tipo di scala che io sinceramente non conosco e non me ne parlerò allora per fare questo tipo di incastro è necessario tracciare una linea dopodiché in base al legno che dobbiamo utilizzare dobbiamo prendere la misura dello stesso legno quindi utilizzare sempre la stessa squadretta abbiamo 90 mm dobbiamo tracciare una linea a 90 mm sfruttando sempre 90 gradi della squadretta dopodiché dobbiamo tracciare una linea che sia perfettamente perpendicolare a quella che abbiamo appena tracciato per fare questo dobbiamo utilizzare questa linea tratteggiata dobbiamo fare in modo che la linea che abbiamo segnato poco fa sia perfettamente allineata a questa in questo modo avremo un angolo perfettamente di 90 gradi e così avremo la parte da rimuovere nella quale andare ad inserire i nostri murali eccetera quindi ottenere questo risultato ovviamente è possibile anche replicarlo con angolazioni differenti in base all'angolo che vogliamo ottenere lo posizioneremo al nostro piacimento facendo sempre riferimento alla scala incisa da questa parte e quindi lo inclineremo come ci necessita adesso vedremo altri esempio cambiato legno perché quello di prima a questa superficie in questo modo quindi non mi permette di fare l'esempio che voglio farvi solo questo pezzo di rovere in massello truciolato allora vi faccio vedere come è possibile riportare su tutto il perimetro del pezzo che stiamo lavorando un'eventuale linea quindi basterà semplicemente tracciare in questo modo una linea dopo di che posizionare la squadra così come vedete da questa parte va a coincidere perfettamente con la linea appena tracciata quindi possiamo riportare anche da questa parte e successivamente anche da questa con la stessa tecnica in questo modo quindi avremo una linea perfetta che si ripete su tutti e quattro i lati finora abbiamo visto quindi il suo funzionamento come strumento di misura per linee già tracciato o per tracciare delle linee per realizzare dettagli eccetera c'è però da tenere in considerazione una cosa questo strumento va utilizzato come strumento di misura dalla parte interna perché ovviamente la base è alta 2 mm e mezzo se noi volessimo misurare l'altezza di questo pezzo in questo modo la misura che leggeremo sarebbe ovviamente falsata dallo spessore dello stesso quindi o la misuriamo dalla parte interna se ne abbiamo la possibilità oppure dobbiamo sottrarre lo spessore della base altrimenti tutte le misure verrebbero sballate di 2 mm e mezzo misurandolo con un coniometro digitale avremo perfettamente 45 gradi da questa parte e 90 gradi esatti da questa è perfettamente affidabile possiamo quindi sfruttare questa squadra anche in questa posizione perché la base si fa da sostegno pur essendo sottile non cade sia così così o così ovviamente avendo l'appoggio e possiamo utilizzarla sia sul legno che ovviamente anche su altri tipi di materiali per posizionare perfettamente a 90 gradi eventuali pezzi da incollare abitare eccetera 90 gradi in questo modo e 45 gradi in quest'altro modo oppure per verificare che un'angolazione sia perfetta basta avvicinare la squadra e possiamo verificare che l'angolo sia corretto sia quello di 45 e eventualmente di 90 gradi questo per pezzi che abbiano però una angolazione riferita ad una superficie quindi possiamo poggiarla in questo modo in realtà questa squadra ci permette di verificare ed impostare un'angolazione di un pezzo che sia sollevato quindi dargli un'angolazione di 45 30 gradi quello che ci necessita e sfruttarla come se fosse una livella in questo caso utilizziamo di doverla posizionare esattamente a 45 gradi basterà semplicemente far coincidere il 45 con la tacca mettere una livella sulla stessa e in questo modo quando la livella sarà perfettamente a bolla avremo il pezzo posizionato con un angolo di 45 gradi oppure può essere utilizzata anche in un altro modo come vedete qua abbiamo detto che c'è questa rientranza che si chiama pivot basterà posizionare un filo a piombo in questo caso utilizzerò un accrocco che mi sono creato apposta per farvi questo esempio utilizzando i gradi riportati e in questo modo verificheremo l'angolo al quale stiamo posizionando il nostro pezzo si indica 15 gradi 20 gradi 25 30 e così via fino ad impostarlo all'angolo e ci necessita possiamo sfruttare quindi il pilot sia per misurare dalla parte bassa se abbiamo alcuni impedimenti che non ci permettono di raggiungere la solità oppure possiamo misurare anche dalla parte alta però in questo caso l'angolo perfetto per avere il pezzo posizionato al livello deve essere il 45 gradi questo è il nostro riferimento per avere il pezzo perfettamente dritto ovviamente inclinandolo da uno o dall'altro lato sommeremo o sottrarremmo dai 45 gradi quindi dallo 0 l'angolo in questo caso per esempio posizionato su 35 avremo un'angolazione di 10 gradi e così via in teoria c'è chi sostiene che possa essere utilizzato anche come battuta per eseguire dei tagli che siano a 90 o che siano a 45 gradi però io uno strumento del genere vista la sua leggerezza soprattutto in questo caso ha visto il fatto che è uno strumento liscio studiato per poter scivolare sul legno è difficile da tenere fermo quindi durante il taglio si potrebbe anche muovere sia per la nostra incolumità che per la qualità del taglio sinceramente questo tipo di utilizzo lo sconsiglio vivamente e allora ragazzi quindi avete visto quante funzionalità nasconde questa semplice squadretta ovviamente l'utilizzo più diffuso all'interno del laboratorio non mi nascondo che nel mio caso è quello di verificare i 45 e 90 gradi poi ovviamente a qualche volta anche delle angolazioni un po diverse però offre davvero tantissime funzioni tanti di voi mi hanno scritto chiedendomi se io conoscesse il funzionamento quindi mi sembra di giusto fare questo video è in comune questa della parkside con tutte le altre squadre che esistono al mondo come speed square il funzionamento della regolazione degli angoli e per realizzare gli incastri per poter realizzare le pendenze corrette per tettoie eccetera poi ovviamente ci sono delle squadre vi lascerò dei link giù nel primo commento nella descrizione che hanno qualche funzione in più per quanto riguarda per esempio delle tacche che ci permettono di posizionare la matita correttamente e ruotando il pezzo quindi utilizzarlo sia come compasso che eventualmente per tracciare le linee senza essere condizionati dalla venatura che c'è sul legno però per il resto come squadra a parte la qualità perché ovviamente costa poco 4 euro e 99 è molto sottile se casca ovviamente si danneggia eventualmente va allimata però per il resto all'interno di un laboratorio se non dobbiamo trasportarla in giro sicuramente durerà tantissimo e vi offre la possibilità di avere degli angoli perfetti e di lavorare molto velocemente ripetendo delle linee parallele degli angoli corretti eccetera cosa dire spero che questo video vi sia piaciuto soprattutto vi sia stato utile per capire il funzionamento nascosto di tutti questi numeretti incisi come angoli eccetera vi invito ad iscrivervi al mio canale vi invito a mettere mi piace al video mettere anche il segno di spunta sulla campanella in modo da ricevere le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto